Terremoto in Veneto, l'inchiesta sul Mose porta a 35 arresti e coinvolge autorevoli politici della regione. Verso il ballottaggio ecco l'idea di Finco e Poletto su quartieri e sicurezza in città. Primi impegni per il nuovo sindaco di Gaglio Munari che pensa alle melette a Cassola nasce la giunta a Maroso, tre assessori su cinque sono donne. Trova un portafoglio con oltre 1500 euro e lo restituisce in nobile gesto di un 41enne di Mussolente. Oltre 100 bambini di Romano da oggi diplomati buon pedone dopo un corso sulla sicurezza stradale. Buonasera, benvenuti in Bassano Notizie. La notizia del giorno fin dalle prime ore di stamane la nuova Tangentopoli in Veneto. 35 arresti coinvolti autorevoli esponenti politici della nostra regione ci racconta tutto da Venezia. Tiziano Bullato. 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 10 provvedimenti di arresti domiciliari e questo è il terremoto che sta scuotendo il Veneto in queste ore dopo l'inchiesta della procura di Venezia che dura ormai da anni. Due sono i provvedimenti attualmente sospesi, quelli a carico di Giancarlo Galan e quelli nei confronti di Lia Sartori, ai domiciliari per i quali si aspetta il parere delle camere di appartenenza. Acquisite le dichiarazioni di Pier Giorgio Baita della Mantovani e del patron del Mose Mazzacurati, gli investigatori sono riusciti a risalire ad almeno 25 milioni di euro di fondi neri creati con il meccanismo delle fatture gonfiate per il Mose, per una serie di project financing e per lavori specifici. Quei fondi sono serviti, secondo la procura, per pagare i favori di politici e pubblici amministratori. Ecco che per finanziamento illecito finisce nei guai il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, così come vengono chiesti gli arresti domiciliari per Lia Sartori, euro parlamentare uscente che avrebbe ricevuto 200 mila euro per la sua campagna elettorale e nel mirino ci sono in questo caso i project di alcuni ospedali. In carcere alla Spezia è stato rinchiuso il commercialista e imprenditore Vicentino Roberto Meneguzzo, numero uno di palladio finanziaria, chiesto l'arresto anche del parlamentare Giancarlo Galan, già governatore regionale a sua volta accusato di aver ricevuto benefit e versamenti milionari, 200-250 mila euro all'anno per dieci anni, le tangenti che si presume siano state pagate all'assessore regionale Renato Chisso. Adesso si è arrivati al livello politico, al livello di chi veniva corrotto, non per atti specifici, ma in una sorta di patto scellerato che coinvolgeva imprenditori e politici. Bassano verso il ballottaggio, domenica si sceglie il nuovo sindaco, noi continuiamo a sentire i due candidati, Finco e Poletto, stasera su quartieri e sicurezza in città. Noi vogliamo un intercomitato dei quartieri molto forte, vogliamo cambiare la parola può essere ascoltato con la parola deve essere ascoltato perché riteniamo i quartieri le radici della nostra città. Ciascuno di noi ha le radici in un quartiere e i quartieri devono essere non solo ascoltati ma anche devono poter comunicare tra loro, quindi per noi è importante che i quartieri si incontrino nella sede municipale molto strettamente e molto ravvicinatamente nel tempo. L'ascolto dei quartieri è fatto da subito, dall'inizio del percorso attraverso il quale l'amministrazione decide, sceglie, progetta un'opera piuttosto di iniziativa, quindi subito la condivisione e poi punto a pensare i quartieri come luogo di aggregazione, quindi ogni scelta che sia una viabilità, un insediamento edilizio, un progetto urbanistico, qualsiasi cosa, deve essere nell'ottica di creare nel quartiere un luogo di aggregazione, in modo particolare vogliamo evitare il traffico di attraversamento, ci sono alcuni quartieri che si trovano ad essere attraversati da un traffico di gente che non si ferma nel quartiere ma lo usa come scorciatoio. Prima di tutto vogliamo che le luci siano accese in centro storico come nei quartieri perché la percezione di questi anni è stata di mancata sicurezza a causa dello spegnimento dei lampioni e poi un coordinamento forte delle forze dell'ordine che sia anche condiviso con il territorio in modo che dove agisce un'arma dall'altra parte può essere collegata un'altra e per quanto riguarda la polizia locale la vogliamo fuori dagli uffici. E i vigili ma anche altri uffici comunali bisogna fare lo sforzo in termini di orario, di lavoro, di renderlo il più possibile a servizio dei cittadini. Quindi va bene turno serale o notturno, va bene vigile dei quartieri evidentemente. Aggiungo anche però la necessità di far tornare nei quartieri in cui non c'è più o mantenere nei quartieri in cui c'è ancora quel livello alto di aggregazione che porta anche a un buon controllo sociale. Non significa fare le ronde ma significa avere quell'occhio in più attento a prevenire alcune situazioni. E domani sera a partire dalle 20.30 in diretta su TVA Confronto fra Finco e Poletto in diretta potremo ascoltare le loro idee sulla città e il loro pensiero sui cinque anni che verranno. Intanto anche oggi tante iniziative da entrambe le parti a sostegno dei due candidati. La sfida finale fra Poletto e Finco si combatte anche a colpi di endorsement. Questa mattina si è svolto un nuovo round con i supporters dei duellanti per il ballottaggio di domenica prossima. I primi cinque eletti della lista Bassano per Tutti hanno ribadito il loro appoggio al candidato di centro-sinistra Riccardo Poletto rimarcando il loro impegno per una città a misura di bambino, attenta alla sostenibilità e al sociale. Partecipazione è uno dei nostri slogan ma partecipare seriamente. Il primo modello di partecipazione è votare. Domenica andiamo tutti a votare, tutti responsabilmente. Chiaramente noi chiediamo un voto chiaro e espresso dalle nostre tre liste di coalizione verso Riccardo Poletto alla luce del sole. La stazione dei treni è il contesto scelto da Federica Finco per parlare di sicurezza assieme al candidato sindaco di Padova Massimo Bitonci. Il senatore leghista ha appoggiato l'intendimento di Federica Finco di portare le unità cinofile allo scalo ferroviario. Io penso che questo progetto sia auspicabile anche per il Bassanese, per un territorio così vasto che ha bisogno di un'amministrazione che metta anche del suo, perché vedete la sicurezza è un modello integrato, non è un modello che può essere lasciato solamente ai carabinieri e alla polizia. Il neo sindaco di Cassoli invece Aldo Maroso oggi ha ufficializzato la sua giunta con una ampia zona di quote rosa. Cinque assessori, tre sono donne. A partire dal vice sindaco Manuela Bertoncello che si occuperà anche di lavori pubblici e ambiente, Gian Antonio Staghellin per urbanistica ed edilizia privata, Andrea Todesco bilancio e tributi, Giannina Scrivin sociale e attività produttive, Marta Orlando favaro a sport, cultura e politiche giovanili, Maroso ha tenuto per sé le delega al personale, agli affari istituzionali e alla sicurezza. A lavoro anche il nuovo sindaco di Gallio, primo obiettivo, le melette. 45 anni, imprenditore e molto amato dai suoi concittadini che con il 55,5% di preferenze l'hanno eletto come primo cittadino del comune di Gallio. Emanuele Munari, il volto della lista insieme a Gallio rinasce, non nasconde l'emozione dei suoi primi giorni da sindaco dopo aver militato per sette anni nei banchi della minoranza. La mia soddisfazione e la nostra soddisfazione è immensa, una soddisfazione che ci si può immaginare prima dell'elezione ma poi si realizza quando proprio ti cade addosso tutto quello che ci è caduto addosso a noi, a me personalmente come faro e come candidato sindaco e sindaco. Secondo lei quali sono i fattori che hanno permesso la sua vittoria? Beh sicuramente l'avete cercato da tre anni a questa parte l'unione del paese, l'unione sociale del paese che cinque anni fa si era frammentata, si era disgregata nella composizione delle quattro liste famose. Cosa farà come prima cosa? Beh le priorità sono due essenzialmente, la prima è rimettere un po' di ordine all'interno della macchina amministrativa che è stata un po' scombussolata con spostamenti vari, quindi ridare fiducia e ricoinvolgere e dare positività alle persone che lavorano. E poi il progetto importante sono le melette, quindi il rilancio delle melette con i fondi ODI che di certo arriveranno, però ci manca la parte del cofinanziamento che spetta al comune di Gallio. Nobile gesto di un 41enne di Casoni di Mussolente che questa mattina si è recato alla stazione dei Carabinieri per consegnare un portafoglio contenente 1600 euro. Il 41enne lo ha trovato per terra di fronte all'ufficio postale di Cassola. Il portafoglio è stato restituito al suo proprietario, un anziano che aveva appena ritirato la pensione. Ancora cronaca anche nel prossimo servizio. Lei faceva da pallo, lui si intrufolava in bar e negozi compiendo numeri da acrobata. Una coppia specializzata in furti che dal 24 al 28 settembre scorsi ha messo a segno quattro colpi racimolando in tutto quasi 4 mila euro. A distanza di mesi i Carabinieri di Bassano sono risaliti ai colpevoli, il marocchino di 30 anni Youssef El Jedawi e la sua compagna, una vicentina di 32 anni, le cui iniziali sono SS. Sono stati incastrati dalle riprese di varie telecamere di videosorveglianza private e comunali. El Jedawi è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Venezia dove si trova per avere commesso altri furti, a precedenti anche per stupefacenti e oltraggio. La donna invece si trova in una comunità per tossicodipendenti. Le sono stati notificati gli arresti domiciliari per il coinvolgimento accertati in almeno due colpi. Gli esercizi di Bassano presi di mira dalla coppia di ladri sono una pizzeria da asporto al Terraglio, un bar di via Roma, un'erboristeria di via Vittorelli e una gelateria di via Diaz. A Romano adesso dove da oggi oltre 100 ragazzini sono diplomati. Buoni pedoni. Abbiamo imparato ad attraversare la strada, i segnali stradali e a rispettare e dare la precedenza. Ad attraversare la strada, come ci si comporta insomma. Si è chiusa oggi con una vera e propria festa e la consegna degli attestati del Buon Pedone, il corso che ha coinvolto 145 alunni della scuola primaria di Romano Dezzerino sull'educazione stradale. Un'opportunità salutata con favore dalle famiglie. Il sindaco del paese, Rossella Olivo, ha sottolineato anche che in questo modo si creano i cittadini del domani. Instalano un rapporto con la polizia locale, con i vigili, quindi che li vedono come amici e non più come persone alle quali temere, ma alle quali chiedere se si hanno bisogno. E poi comunque i bambini sono molto recettivi. Tutti i bambini a questa età hanno già una bicicletta, quindi gli insegniamo i primi rudimenti sul riconoscere i segnali, quali sono i segnali di pericolo, come comportarsi in determinate situazioni. Gli insegniamo la figura dell'agente della polizia locale, i compiti e il servizio per la comunità che viene svolto. Radio Vicenza, la radio che ti infiamma. Radio Vicenza. Per la tua pubblicità, Publi Vicenza, divisione commerciale, videomedia S.P.A. Siamo allo sport, ok, con il Bassano che è impegnato per il mercato. Adesso c'è anche il conforto dell'ufficialità. Enrico Fincati affiancherà Maurizio Scucato nella conduzione del Bassanochi e si è subito adoperato sul mercato, piace Vasquez, spagnolo del Villafranca. Ma il vero obiettivo è comunque Pablo Aguarona, anche egli del Villafranca, quintetto della Liga, difensore e prospetto di punta del panorama iberico. Quanto al portiere, i giallorossi ne hanno bloccati due. Mauro Dalmonte, tornato dal prestito di Lodi, e il veterano Juan Oviedo. Piacciono un bel po' entrambi, ma la società è propensa a dare fiducia a Dalmonte e potrebbe lasciare accantonare l'ipotesi Oviedo che Sinaieri pareva un passo e in difesa accanto a Zene Campagnolo si cercherà un altro difensore di livello sul mercato, oltre che il già citato Spagnolo e in attacco spazio a Garcia e Gimenez con scuccate 30 primi cambi. Il club vuole un posto tra i primi quattro quest'anno, la finale l'anno prossimo e lo scudetto fra tre anni, il programma è chiaro. E contestualmente l'idea è quella di riorganizzare il settore giovanile ex novo per dare impulso, slancio e nuovo entusiasmo all'ambiente dopo il brillante play-off di maggio. Insomma via Cunegati, Ambrosio e Miguel Nicolas, tre partenze dolorosissime, dentro un nuovo spagnolo presumibilmente Dalmonte tra i pali e un italiano rivelazione che piacerà un bel po', con Massimo Belligio in panca come coach. Squadra non da primissima fascia forse, ma squadra in grado di infastidire chiunque per il primo passo del nuovo corso può andare benone così. Una bella notizia di calcio perché Tommy Maestrello grazie alle 11 rete segnate in questo campionato si è aggiudicato il premio Laudano promosso dalla Lega Pro e dalla Gazzetta dello Sport come miglior marcatore dei campionati di Lega Pro di prima e seconda divisione tra i giocatori nati dopo il 93. L'attaccante giallorosso riceverà il premio sabato durante l'intervallo della partita play-off che si giocherà a Vercelli tra Pro Vercelli e Sud Tirol. E' tutto, vi ricordo il sito tvavicenza.it per rivedere Bassano Notizie, vi ricordo domani sera alle 20.30 versus il confronto tra i candidati al ballottaggio Poletto e Finco, noi se volete ci diamo appuntamento alle prossime edizioni. Detto ascensori